Allora Antonioni, com'è stato questo rigore? Eh, sempre palpitante, però devo dire ho tirato bene, sempre a destra bisogna tirare. Attenzione adesso sul dischetto, c'è Steve Harris degli Highland che mette a segno. E siamo ancora in parità? No, siamo 2-1 in Inghilterra. Eh, va bene, sì, 2-1 ha ragione, sono in vantaggio loro perché hanno tirato questo già. Sono in vantaggio 2-1 dopo il gol di Steve Harris, adesso tocca il grande Eros.